In attesa della ripartenza, il settore dei macchinari industriali, che è una delle eccellenze italiane e fa la conta dei danni da coronavirus, nel 2020 si stima un crollo del 27% del fatturato, secondo Federmacchine. Gran parte delle aziende sono concentrate in Lombardia e il crollo arriva malgrado molte di queste siano rimaste operative. Sentiamo Stefano De Agostini. Se andiamo avanti così, il 2020 sarà il peggior anno che possiamo ricordare. Dovremmo andare alla seconda guerra mondiale per trovare situazioni peggiori di quella che stiamo vivendo. Un crollo del fatturato, meno 27% per il coronavirus e il lockdown. Questo lo scenario stimato per i costruttori di macchinari industriali, settore da 50 miliardi di euro in Italia, con circa 200 mila addetti e 5 mila aziende, la maggior parte concentrate in Lombardia. Chi si occupa di macchine per confezionamento e imballaggio ha continuato a lavorare, perché è impegnato in filiere essenziali come alimentare e farmaceutico, ma ha comunque avuto un calo del 15%. Invece per i costruttori di macchinari utensili, robot e automazione è scattato il lockdown totale. Si prevede un tonfo del fatturato del 36%. L'indice degli ordini relativi al primo trimestre del 2020 rispetto allo stesso trimestre 2019 dà un dato negativo, meno 11%, che è molto più marcato però per quanto riguarda il mercato interno. Il settore, che conta 400 aziende e 32 mila dipendenti, lancia l'appello al governo. Subito la riapertura a chi garantisce la sicurezza, anche guardando all'export. Se non riusciamo a dare dei dati certi nelle consegne di future macchine che ci vengono richieste dal mercato estero, sicuramente, come purtroppo in parte sta già iniziando, i nostri clienti esteri andranno dai nostri concorrenti. Perderli è veramente un dramma, perché significerebbe chiusura di aziende e disoccupazione di lungo termine. Questo è un problema che dobbiamo assolutamente scongiurare.